Ebbene, quel che finisce bene Valentino di fatto è riuscito a tornare al box, però direi che è stata la prima volta, e poi faccio un'enorme metafora, che ho visto un attaccamento di Valentino alla Desmo 16 così intenso come in questa simozza. Tecnicamente era attaccato al commissario. No, non gli dicevo, lascia di la moto che non ti permette di toccare. Sai che ogni tanto puntualizzo a sproposito. Intanto invece, ringraziando anche, devo dire, Filippo Farsapella della Gazzetta dello Sport, che è stato forse in questi termini il più tempestivo.